La potenza del Signore è una potenza che si manifesta nel momento stesso in cui Gesù parla, nel momento stesso in cui la fede viene esercitata nel Signore Gesù. E senti la voce di Dio e il Signore mi disse oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo della raccolta, domani è troppo tardi. E in un istante il Signore può fare grandi cose nella tua vita, in un istante, in un momento, in un secondo, potrei dire in un batter d'occhio. Il Signore è capace di toccare la tua vita e di operare con potenza, secondo la sua volontà, secondo il tuo particolare bisogno. Grazie a tutti.